Torneranno in mare a partire dal lunedì 25 settembre i pescatori abruzzesi le cui imbarcazioni sono ormeggiate dal 19 agosto per il fermo biologico. Via libera dunque dalla prossima settimana lungo la costa triatica piatti a chilometri zero realizzati con il pescato locale e meno rischi di mangiare soprattutto al ristorante prodotto congelato o straniero della stessa specie. Siamo pronti ma il tempo non promette buono, è previsto due metri d'onda per domani sera e praticamente lunedì aspettiamo che il mare si calma. Per i primi periodi sicuramente sarà molto vantaggiosa, ci sarà il prodotto, speriamo nei prezzi che i prezzi siano buoni e poi la quantità, tu lo sai meglio di me, che l'offerta abbassa il prezzo. Il fermo quest'anno finisce in un momento difficile con la spada di Damocle e delle nuove linee di indirizzo della Commissione UE che pende sulla flotta italiana ma le nuove linee prevedono anche la restrizione delle aree di pesca con tagli fino al 30% di quelle attuali con scadenze ravvicinate nel 2024-2027 per concludersi nel 2030 ma preoccupare anche la risalita del costo del carburante. Sta aumentando giorno per giorno, da 80 centesimi, 80-85 che abbiamo lasciato all'inizio del fermo biologico è arrivato a 94-95 e si presume che va a finire a 1 euro, 1 euro e 10. Che vuoi fare? Noi non comandiamo niente, speriamo che le cose vadano meglio. Oltre alla benzina sono aumentati anche i costi di gestione? Come no, la costi di gestione aumenta tutto perché cammina tutto dietro al petrolio, le reti costano, le riparazioni costano, i cavi d'acciaio costano, anche gli alimenti vivere di bordo sono aumentati. Ci dobbiamo accontentare e vedere di tirare avanti, finché e quando si può.